ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video lo so vi starete chiedendo come mai un titolo del genere semplicemente si tratta di un contest che vi vedrà coinvolti all'interno di un gioco interattivo è una specie di caccia al tesoro dove voi sarete i protagonisti e lo scopo di questa cosa sarà di indovinare la combinazione esatta che vi darà accesso al premio finale ma di questo ne parleremo tra poco il gioco l'ho chiamato appunto la password di gioco scusate ma il gioco di parole con me lo sapete che inevitabile perché volevo portare qualcosa di nuovo e coinvolgevi in una maniera completamente nuova le regole del contest sono le seguenti anzi no non le spiegherò io ma lo farà un'altra persona che potrà essere più chiara del sottoscritto ciao a tutti i ciuffetti qui è ciufferozzo che vi parla ciufferozzo chi chiudi la bocca comunque sono qui poiché mi sono stati conferiti poteri alti per potervi spiegare le regole del contest base numero 1 il contest inizierà il 9 marzo e si concluderà il 15 marzo base numero 2 l'obiettivo della selezione sarà quello di indovinare la password di gioco composta da tre oggetti presenti in minecraft ma come si fa a scoprirla ecco come nei tre giorni successivi a questo video dunque dal 9 all'11 marzo usciranno alle ore 15 tre indizi ma 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 come faccio a trovare l'indizio è molto semplice fai attenzione allora mentre guarderai il video vedrai che a un certo punto comparirà un fumetto con su scritto qual è l'oggetto della combinazione ma non è finita qui fase numero 3 dato che l'ordine di pubblicazione degli indizi non corrisponderà all'esatta combinazione della password se non sarebbe troppo semplice il giorno 12 marzo uscirà un video con un indovinello in cui vi verrà svelata la corretta sequenza e solamente sotto a quel video indovinello potrete scrivere qual è secondo voi la password giusta mi raccomando ricordatevi che dovrete scrivere la password sotto al video che uscirà il 12 marzo e non prima altrimenti i vostri commenti non verranno presi in consideramento o era considerazione dovrete commentare con l'hashtag password gioco e la sequenza degli oggetti che secondo voi è corretta avete a disposizione solamente un tentativo e cioè un commento perciò non spammate fase numero 4 vinceranno i tre vincitori più veloci che risponderanno correttamente a partire dal 12 marzo il premio del contest è il seguente i tre vincitori parteciperanno a un video insieme a gioco quindi gente avete capito tutto no non ho capito bene neanche io ah per chi avesse dei dubbi è pregato di tornare alla fase 1 ma dimmi un po ciuffo vorreste aggiungere qualcosa? beh non saprei ho praticamente spiegato tutto io ok ragazzi allora buona fortuna a tutti e prima di chiudere vorrei ringraziare ciuffo rosso che mi ha aiutato in questa ardua impresa se ve lo state chiedendo la risposta è no non ho imparato ad animare così bene perché a fare tutto ciò è stata proprio ciuffo e quindi ragazzi se volete anzi dovete andare a vedere sul canale perché fa delle cose pazzesche e merita tantissimo ovviamente in descrizione troverete il link del suo canale e noi ci vediamo la prossima volta ciao 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 Grazie a tutti.